ciao ragazzi bentornati nel canale come detto nello scorso video dell'unboxing dello snorkel oggi procederemo all'installazione innanzitutto dovremmo tagliare la sagoma che c'è al suo interno che praticamente è questa qua io già ritagliato come potete vedere c'è da tagliare la feccia le sue forme questi sono i suoi controlli eccetera eccetera questa è la parte poi per chi avesse il parapalta va staccato che sono praticamente quattro viti io per comodità ho tolto la ruota più che altro per l'accesso che c'è qua sotto e ora procedo nell'installazione passo passo vi faccio vedere cosa serve e quello che bisogna fare comunque nelle istruzioni di montaggio che sono al suo interno che sono queste qua vi fa vedere comunque passo a passo ciò che dovete fare bene iniziamo con sganciare tutte le clip della del parafango poi per smontare questo bisogna anche togliere sempre le clips di plastica della minigonna che sono sotto vanno sganciate per far sì che questa parte qua esca un po' in fuori per sfilare tranquillamente questo perché questo vi ricordo va proprio staccato per far sì che si lavori bene io comunque sto seguendo le istruzioni cartacei o il pdf che vi dicevo quindi adesso cominciamo nello smontare tutte queste clips qua e poi vediamo come andare avanti io per togliere le clips solitamente soltanto un cacciavite piatto semplice per comodità quindi procediamo la cosa più scomoda sono quelle sotto io non ho fatto quello che avrei voluto fare purtroppo era lavare la macchina perché sono stato delle pozzande che mi erano sporcata un po e quindi adesso andare sotto equivale a prendersi la terra in faccia ma fa niente due clips sotto di plastica piccoline quindi una è questa qua e poi ce ne abbiamo una molto più grossa ecco la differenza come sono quello che non ci interessa è appunto aprire questa parte qua in questa maniera dire questa così per far sì che poi riusciamo a sganciare e parafango quindi per ora molto semplice anche perché dobbiamo solo smontare per adesso adesso andiamo avanti a smontare 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 qua c'è la sua guarnizione qua c'è la sua guarnizione vi faccio vedere le solite clips bianche che sono degli incastri qua a smontare 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 una volta tutto staccato credo che poi il tuo passi di lì adesso dobbiamo smontare adesso dobbiamo smontare anche la freccia dove ci siamo quindi ne approfitto anche per un cambio futuro nel caso qualcuno voglia a smontare a smontare ma vediamo sempre queste cose quindi direi di continuare quindi direi di continuare la nostra installazione ora procediamo nell'installare la nostra DMA che abbiamo precedentemente tagliato a smontare una volta che abbiamo messo sulla maschera ora dobbiamo praticare i fori da 14 mm e poi il foro con la tazza io inizierei con i fori da 14 mm quindi farò un piccolo preforo con una punta per metalli da 3 mm e poi passerò con la presa conica fino ad arrivare a 14 mm prima di forare comunque controllate che dietro non ci sia nulla suonare suonare l'amore suonare a che ci un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non si tocca. La nostra riva la possiamo anche togliere. Ora possiamo dare una giugnata. No, non si tocca. No, non si tocca. Ok, una volta che abbiamo limato tutto, che abbiamo passato, io avevo fatto già fare il colore della mia macchina per fare i ritocchi in un futuro, eccetera, eccetera, basta semplicemente un'antiruggine, eccetera. Questa è un'antirurgia. Un po' un po'. E un po' 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 goal great. зад gün Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta che questo l'abbiamo incastrato e accoggiato nella sua sede, dobbiamo procedere nel porare il montante. Per colare il montante dobbiamo per forza montare lo snorkel per avere i punti di segno. Quindi rimuoviamo le ranelle e i dadi prementati sullo snorkel. Una volta che abbiamo messo lo snorkel in posizione e abbiamo segnato i punti sul montante, procediamo nel forare. Una volta che abbiamo praticato i fori sul montante, applichiamo anche qua della vernice o dell'antiruggine. Una volta che è asciugato il tutto, passiamo a mettere le due clip date in dotazione per poi avvitare la staffa sul montante dello snorkel. Ora possiamo avvitare la staffa nelle clips precedentemente montate sul montante con le viti date sempre in dotazione. Grazie. 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 all'esterno di questo bocchettone qua Grazie a tutti Ora prendiamo le sue franelle con le sue viti Cominciamo Vado ad avvitare il tutto Allora una volta che abbiamo fissato tutte le viti che ci sono Che praticamente una volta che avete puntato è tutto Quelle sono le due viti qua Una vite lì E queste due che sono quelle un po' più Eccole lì Che si intravedono Sono quelle un po' più Complicate di viti da avvitare Ora passiamo a montare Il tubo del filtro dell'aria con il tubo dello snorkel Applicando Facette che sono in dotazione La piastra come vedete Sempre nei fori Ci sono già Del vecchio pezzo che c'era Originale Una volta che stringiamo il tutto Mettiamo le facette Questa parte Diciamo che l'abbiamo finita Ecco il lavoro finito come si presenta Piastra data in dotazione Facciata di plastica in dotazione Che passa Tra questo Che è unito al tubo Dello snorkel Quindi tiene tutto questo Blocco qua Per non farlo vibrare Tutto altro quello sotto E la facetta sempre data in dotazione Per tenere il tubo in sede Questo È la fine del lavoro Manca ancora l'ultima cosa Manca l'ultima cosa Che è questa Adesso lo fissiamo Lo stringiamo E lo snorkel è montato Ecco una panoramica Dello snorkel installato correttamente Ora procediamo Nell'installare Nel rimontare Tutte le parti Che abbiamo smontato All'inizio Tutte le parti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di come è uscito il lavoro, anche perché non si può sbagliare avendo esso la sua forma, quindi sono contento di come è venuto. Tutto a suo posto, tutto è montato. Nei prossimi giorni vi racconterò se sento qualche differenza a livello di rumore o altro. Grazie per aver visto il video, spero che vi sia utile. Prossimamente ci saranno altri unboxing e altri montaggi di piccoli oggetti e altre cose che sto pensando di fare, di portare sul canale per farvi vedere un po' qualcosa di diverso. Voglio ringraziare ancora la Woolstein Company per avermi dato questo snorkel per testare. Spero di continuare a collaborare con loro per portarvi altri prodotti loro e farvi vedere appunto un po' di prodotti particolari come dicevo nel video, nello scorso video. Quindi nulla, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirci su Facebook e Instagram Nuovo Suzuki Gym in Italia. Con questo chiudo, alla prossima, grazie, ciao ciao.